ho visto che agire tanto su internet e allora ho detto un grazie grande a due persone, due artisti furlanti, Galantini, che mi fanno ridere da una vioddolo, non scopriamo e il mio maestro Sdrindule, Hermes, un grande, che ha scritto che ti fa ridere e riflettere attorno al Covid. Io ho fatto un omaggio a lui, a Galantini, a due furlanti che sono morti dal Covid, non si sa se è il mood che sarà il domani e allora io canto le canzioni di Sdrindule per ridere e per riflettere. Mandi! Tic-toc, tic-toc! Mi sta a vigni il cagotto! Tic-toc, tic-toc! A chi ha se piso i roti? Ma l'infezione ti fa rinunciare a tutte le voie che tu hai di mangiare, con de salam, frico e muset, viti e quattro ore si britaliet, si è briserate come in prisone, culo a malore, o c'è pallone, aggetti vuoi, sono domi e cartons, tu hai scritto a tronata, anche il pallone. Dopo tu viudis la indistazione che monti sul treno con quattro sburtons, e loro sanno che il virus al cuore e che le bestie le porti in culo. Tic-toc, tic-toc! Mi sta a vigni il cagotto! Tic-toc, tic-toc! A chi ha se misso i roti? Dopo tu si disga anche il paese, sale un amico in quarantena, e dico se tu vassa fatti il tampon, mamma se timpe non vale bene. Dai negozi e mangia le robe, speri che passi prima di ottobre, spedai son plen di malasse, tanti diti se han già sierà. Tic-toc, tic-toc! E chi par che si fa serie, è meglio la salute che la miseria, nel momento di s'adugni unì, se scolte sdrindule c'è caldìs! Tic-toc, tic-toc! Mi sta a vigni il cagotto! Tic-toc, tic-toc! A chi ha se misso i roti? Passati in su, parli essi in guerra, e malti in palpasse, arriva la sera, e domani sicur sarà una tre di, non gli agimò il tim di morì, o sin due giunti in malmitus, e che il virus va roti us, ma di sicur non vim di molà, fin alla fin ho vim di lottà, e come finale di questo giancione, le putti in ridi, in sbatti ma rosa, e con pazienza e tant'amor, di sicur domani sarà mio!